Diciamo che la spiaggetta nasce il 23 luglio del 2003, 16 anni or sono, con l'idea di creare un posto diverso, differente dagli altri, che potesse unire sia l'esistenza in spiaggetta delle famiglie che quella dei ragazzi più modaioli. Questo posto è la somma dei viaggi, dei desideri, di una ricerca fatta da me e mio fratello Adriano e la creazione di un posto, ripeto, che fosse differente e si rivolgesse al pubblico un'offerta differente rispetto a quello che fanno altri colleghi. Il nostro obiettivo era quello di accontentare tutti, infatti la spiaggetta club riesce a racchiudere tutto il pubblico, dai più grandi ai piccini, a coloro che vogliono stare in completo relax, venire qui per divertirsi e abbandonare tutti i pensieri che magari ci sono nella vita quotidiana. Ci troviamo in uno dei posti più belli ed è un patrimonio per l'Italia intera di bellezza, l'isola amministrativa del comune di Taranto. Basti vedere chiaramente le immagini per vedere un mare che nulla a che invidiare ad altri posti, anzi da altre parti ce lo invidiano per quanto è bello. Nell'ambito di questa struttura sicuramente questi due giovani imprenditori, i fratelli di Giorgio, stanno lavorando nella direzione esatta finché ci possa essere anche abbinato a un posto bellissimo e meraviglioso, quello dell'isola amministrativa, anche del divertimento per i giovani. Questa è sicuramente una struttura che bene si abbina per il divertimento per i giovani ma anche per le famiglie.